Non caricare il bagger dall'altezza delle palle, per piacere, uguale, ho fatto la stessa identica cosa. Tieno parallelo alle spalle, le spalle alte, altezza delle spalle uguale a altezza braccia. Ok, questo deve essere la tua alzata. Bravo Lorenzo. Bravo Patta. Bravissimo Alberto. Ora ci siamo, questo è bellissimo. Non ti preoccupare perché stanno facendo schifo. Grazie. Smetti di caricare il bagger dalle palle, Patta. Tieno parallelo. Eh, non quello, esatto. Devo leggere AVP sul pallone, ok? Se non leggo AVP non sono contento. Stop! Solo quel movimento del corpo, che direi che lo stanno facendo benissimo. Il passo non è fatto un pollo, non è. Non è questo, non è questo, non è questo. Non è questo, non è questo. Non è questo. Tu si pinta di gatto. Il pezzo è il bravo, si pira. Non sta il corpo Leo. Eh, vai, 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 vai. Non sei in calo, però è la gente. Il pezzo non è altissimo, non è la spalle. Il pezzo ha lì, anche il pezzo. ok alto quando si è tornato deve essere alto bravissimo bravo metti a giro non ricamare la battaglia teni su bene in equilibrio andiamo basso le gambe se vuoi succedere quando fai ribazzare il pallone forza bravo 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 uno Non rispondi il colpo. Non rispondi il colpo. Non rispondi il colpo. Stop! Benevi!